Siamo con Eugenio Nocita, assessore allo sport del Comune di Sanremo, siamo a fine serata, cosa vuol dire assessore? Sicuramente il trionfo dello sport, questa sera abbiamo premiato chi è riuscito meglio, ma lo sport come De Coubertin ha insegnato è fatto per tutti, ciò che è importante è fare sport a tutte le età, dall'età più giovane a quelle più avanzate, perché fare sport significa anche vivere fisicamente meglio e mentalmente meglio. Le amministrazioni, quella di Sanremo in particolare, siamo quasi a fine mandato, hanno fatto di tutto per favorire la pratica sportiva a tutti i livelli e noi camminiamo su questa strada sia aiutando le società sportive, sia aiutando i singoli cittadini affinché possano praticare sport nel modo migliore possibile, in tutta serenità, sia attraverso l'organizzazione della società e sia attraverso lo spirito di iniziativa personale. Che carica ha questi giovani in sala? Ha una carica fantastica, è stato ricordato sul palco, avere a che fare con i giovani significa fare una trasfusione di sangue fresco e quindi aiuta a vivere sempre meglio. Grazie Assessore Grazie a voi, buonasera